Per Simone Barbieri è arrivata la medaglia d'oro, la più bella, la più ambita. Sì, è stata una bella soddisfazione, il lavoro duro pagato. Qual è stato il sacrificio maggiore che hai dovuto compiere per arrivare sul gradino più alto del podio? Sicuramente riuscire a collegare il lavoro, la vita privata e ritagliare anche il tempo per l'allenamento non è mai facile. In più scendere sempre nella categoria per il peso è sempre un grosso lavoro. Nella vita di cosa ti occupi? Sono lavorato in scienze motorie, mi occupo di preparazione atletica e lavoro con i bambini sia nelle scuole che attraverso la mia associazione. Questa medaglia cosa può rappresentare per te? Sicuramente è un punto di partenza in questa specialità, non mia perché arrivo dal light contact. Però l'obiettivo è quello di raggiungere i massimi livelli nei campionati europei e del mondo. Può cambiare qualcosa nella tua vita da oggi con questa medaglia al collo oppure sarai il Simone di tutti i giorni? Sarò sicuramente il Simone di tutti i giorni ma qualcosina in più si può sempre dare. Vorrei davvero riuscire a lavorare per ottenere un titolo europeo, un titolo mondiale nei campionati ufficiali. Te l'auguriamo Simone. Crepi, grazie.